Manca poco all'unico live dei clannad in programma in Italia per il loro tour d'addio. Il 17 maggio 2022, infatti, al fenomenon di Fontaneto d'Agogna, in provincia di Novara, il gruppo irlandese saluterà il pubblico italiano con un grande concerto. Un ultimo grande regalo per i fan, come ci ha raccontato qualche giorno fa Moja Brennan. Facciamo il tutto il show perché ci sono tantissime cani che vogliamo coprire. Quindi è un show full con... Siamo davvero davvero piaciuta. In Lifetime, The Farewell Tour ha subito continui rinvii a causa della pandemia di Covid-19. Per questo motivo abbiamo dovuto aspettare almeno due anni per vedere un'ultima volta insieme sul palco i fratelli Brennan e lo zio Noel Duggan. È stato un paio di anni fa quando abbiamo deciso che perché tutti stiamo facendo cose individuelle e invece di lasciare un po' qui e un po' qui e un po' qui, abbiamo pensato che sia davvero bello, magari anche perché siamo una famiglia. Ci senti davvero bello di capire completamente finire la forma che abbiamo iniziato nel 1970. C'è qualcosa che è successo. È veramente l'ultimo di Clannan, quindi qualcuno che vuole venire, questa è l'opportunità. C'è l'opportunità. poi abbiamo il nostro finale show in Dublin, in december poi il prossimo anno andiamo ad Australia, New Zealand e possibilmente a Japan e lo finiremo nel maio del 2023 al momento sembra che sia il concerto finale, sembra che sia Londra Bruce Osby, Steve Perry, Bono e tanti altri artisti hanno collaborato con i Clannad nel corso di questi anni a testimonianza dell'affetto e della stima nei confronti del gruppo che lascia un'importante eredità artistica grazie al connubio che ha saputo creare tra un certo tipo di musica tradizionale e altre sonorità moderne io credo che se guarda Clannad nel corso di Clannad, abbiamo iniziato come una banda nuova in un paio di Donegalo e principalmente cantando Gaelic e abbiamo progressato con le nostre sensazioni, se lo sapete sempre avevamo una fusione moderna musica perché mio padre aveva una band di show e anche noi stavamo ascoltando diverse musica di musica e la radio e noi stavamo sempre interessati a influenzare la musica di Gaelic e noi stavamo la musica di Gaelic e noi stavamo la musica di Gaelic quindi, siamo creati in questo tipo di vibo questo tipo di sonore quindi è piaciuto pensare che era parte di questa di stabilire questo suono e di essere molto parte di questo. Il nostro legame è molto importante con la lingua gaelic. Quando stavamo cantando in Gaelic, non era molto popolare, anche in Irlanda. E credo che il nostro legame è molto basato nella tradizione irisica e nelle cani iris. Ma portare il suono moderno e creare il suono celtico è il nostro più grande legame, per sicuramente. Moya Brennan lo ha già accennato prima e lo ha ribadito poi alla fine della nostra chiacchierata. Questo sarà davvero il tour d'addio della grande famiglia dei Klanad. Siamo davvero felici che abbiamo deciso che sia bello fare un tour di viaggio. E se le persone pensano che si vanno ancora. Ma credo che i Klanad sono molto diversi nel senso che quando diciamo che facciamo qualcosa, ci siamo dovuti fare questo. E questo sarà il final del tour. Quindi tutti gli italiani che vogliono vedere, sarà il final del tempo. No matter where you go, I will find you. Non mai poi ci sono dei grandi ma inserimenti, giù la pianetta. Non mi